Uè, non fare il pollo! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio nuovo codice CREATOR. Clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci XIUDERONE. DAIE! Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e oggi ragazzi abbiamo un sacco di novità di cui parlare relative ai prossimi giorni di Fortnite. Come sapete ragazzi, da poco è uscita la patch 7.3, l'ultimo aggiornamento che ha portato un sacco di novità. Nel video di oggi ragazzi parleremo delle fasi del terremoto che sono state scoperte, oramai è ufficiale, il terremoto sarà prestissimo su Fortnite. Vedremo anche alcune novità della skin Honor, forse vi dice qualche cosa se avete visto anche i miei video precedenti e non mancheranno un bel po' di leaks per tenervi appunto aggiornati sul dietro le quinte di Fortnite. Mi raccomando però ragazzi di lasciare sempre un bel pollicione in su, un bel like se vi piacciono i miei video. Iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica dei miei video, nessuna notifica delle live. Ma prima ragazzi è la domanda, lo sapete, devo farvi la domanda perché ci tengo tantissimo che i vostri commenti vengano fatti proprio qui sotto. Li leggo eh raga, mi raccomando che li leggo ed è una domanda un po' particolare oggi, quasi quasi ironica. Ma quale DJ preferite ragazzi? DJ Yonder o Marshmallow? Ditemi un pochettino cosa preferite, quale preferite tra i due. Io sinceramente sì vado su Marshmallow, anche se non ho scioppato il Marshmallow direi che lo preferisco perché il DJ Yonder non mi è mai piaciuto tantissimo il lama. Ma quindi, ciancio alle bande, e bando alle ciance, andiamo subito subito a parlare della patch 7.3. Ovviamente alle mie spalle vedete la notizia più importante, una delle più importanti, la possibilità di utilizzare i campfire, quindi i nuovi falò confortevoli che sono presenti in mappa. E mamma mia ragazzi, posso garantirvi che sono davvero tantissimi, come state vedendo appunto alla vostra destra. Questa è una mappa con tutti i falò presenti in mappa. Guarda, ve la lascio lì mentre ne parliamo un attimo, così fate un bello screen e ve la tenete se per caso non l'avete ancora trovata in giro. Ci sono tanti aggiornamenti più o meno importanti, sia sulla modalità creativa che su Save the World, che ovviamente su Battle Royale. Parliamo addirittura di un buff, quindi una modifica, ai Launchpad ragazzi. Uno degli oggetti più vecchi di Fortnite, proprio dalla Season 1. Con questo update hanno aumentato il rinculo, chiamiamolo così, lo slancio del Launchpad del 28%, quindi utilizzando le Jump andrete molto molto più avanti ed è veramente una figata. Hanno ridotto la possibilità di trovare i Rocket nelle casse di munizioni e hanno appunto aggiunto, oltre ai falò confortevoli, anche Orko Giuda, questo lo vediamo dopo, anche il Mortaio. Ma ne parliamo un pochettino più avanti di questo nuovo Mortazzone, un po' strano. Ve l'avevo fatto vedere, ve lo faccio rivedere ragazzi. Questo invece è un file riguardante il terremoto. Come vedete sono degli step, quindi delle cose che accadranno durante i terremoti. E se dovessero confermarsi sono delle cose assolutamente allucinanti. Allucinanti! La prima sarà un earthquake smoke drop, un terremoto che rilascerà del fumo, ovviamente della polvere, quello che volete. Poi avremo smoke dust explosion, quindi delle esplosioni che probabilmente arriveranno dall'interno della terra. Trees falling, allucinante! Cadranno gli alberi, assurdo! Camera shake, earthquake itself comincerà a scuotersi, a muoversi la camera, la telecamera di gioco, e ci sarà il terremoto proprio. Heartquake floor drop, possibly a skin hole. Quindi ragazzi si parla di un vero e proprio terremoto che spaccherà il terreno e potrebbe creare una voragine. Tanta tanta roba ragazzi. Player being in water, i giocatori cadranno in acqua e snow turns to dust, la neve si trasformerà in polvere. Non sappiamo ragazzi se queste informazioni siano corrette oppure no, ma stanno davvero cominciando a girare prepotentemente. Ragazzi aspettiamoci qualcosa di assurdo, perché più si va avanti con le season e più il colpo di scena è d'obbligo per Epic Games. Quindi tanta tanta roba, un super like per il mega terremoto che non vediamo l'ora di vivere. Stavamo parlando del mortazzone ragazzi. Vi voglio fare vedere, lo abbiamo usato tutti, a me sembra una cacata incredibile, ma voglio farvi vedere ragazzi il trailer del mortazzone che è molto divertente. Effettivamente utilizzato con prepotenza riesce a devastare un edificio, ma dobbiamo essere fermi in quattro a tirare mortazzone di prepotenza. Una minchiata comunque il mortazzone ragazzi. Quindi assolutamente, l'ho detto quando l'abbiamo provato in game qualche ora fa per la prima volta, secondo me serve solo a farti sgamare e basta. Adesso se ammazzate qualcuno con le mortazioni, porco giù da raga, mandatemi la clip, giuro ve la pubblico. Ve la pubblico. Andiamo avanti però ragazzi, parliamo invece di alcune novità relative alla skin Honor Guard. Ne abbiamo già parlato in un paio di video precedenti, è successo un casino. Io ero presente al casino che è successo. Un leakers americano ha pescato un modo per dare a destra e a sinistra dei codici per la skin Honor e ne ha dati veramente parecchi raga. Io non sono riuscito a prenderlo purtroppo. Cos'è successo? Epic Games dopo circa 30 minuti ha bloccato la possibilità di ottenere la skin in questione che vi ricordo potete avere comprando un Honor 20. Risponde però ragazzi finalmente il supporto tecnico che conferma il ritorno della skin in game per il 15 febbraio. Quindi il giorno dopo San Valentino arriverà nuovamente la possibilità di ottenerla in game. Ovviamente con tutte le dovute patch. Ma andiamo avanti ragazzi e parliamo anche di un'altra skin incredibile che sta per arrivare. Il Dark Cupid, quindi la versione malvagia del nostro, come cavolo si chiama, Ranger dell'amore. Non vi ho scritto ragazzi, non vi ho detto nel prologo questa cosa perché è talmente assurda che io raga vi dico prendetela davvero con le pinze. Ve l'ho scritto nel titolo. Allora, la persona che l'ha twittata è uno dei Likers più famosi in assoluto sulla scena di Fortnite. Ragazzi, sembrerebbe che ci siano delle sfide per il Dark Ranger che daranno V-Bucks. È una roba assurda ragazzi. Se così fosse, come vedete, ci sono sei challenge. Partono da 100 V-Bucks come Montepremi, 200, 300, 400 e due da 500. Io non so cosa dire. Challenge per V-Bucks ragazzi. Mi sembra veramente assurdo. Però la persona che ha twittato questa cosa è assolutamente serissimo nel suo lavoro e spesso e volentieri quando vi twitta qualcosa ci azzecca ragazzi. Io non so cosa dire. Sono anch'io esterefatto da questa cosa. Ovviamente auguro con tutto il cuore che il Lik sia vero e che quindi possiamo ottenere un totale di 2000 V-Bucks. Bisogna capire se utilizzabili tranquillamente o si dice anche se ne potranno utilizzare solo 500 di questi 2000 per lo shop normale. Mentre gli altri 1500 dovranno andare, non si capisce, se nell'outfit della skin del Dark Cupid. Non lo sappiamo ragazzi. È una cosa che vi terrò assolutamente aggiornati. Voglio chiudere molto velocemente ragazzi parlando anche dei Frozen Legend. Lo conoscete tutti. Ecco appare finalmente ragazzi anche la possibilità di ottenere il piccone ghiacciato di San Valentino. Arriverà anche questo nello shop come vediamo qua. Cosmetic Source Item Shop e quindi se vi manca e avete il Ranger ghiacciato ecco l'occasione per ottenere anche il suo piccone. Beh ragazzi io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video, mi raccomando, un bel like, iscrivetevi in tantissimi al canale. Noi ci vediamo presto. Ciao! Ciao!